Musica Volevo rendervi partecipi di quello che sta succedendo in questo momento della nostra rianimazione è un momento in cui noi siamo molto sollevati e direi contenti della situazione attuale che si è venuta a creare con sollievo e orgoglio posso dire che in questo momento la terapia intensiva di Piacenza è libera da positivi da polmonite per SARS-CoV-2 questo per noi è un momento particolare perché essendo fuori dalla situazione di emergenza siamo sconsapevoli di quello che abbiamo fatto noi come medici, come infermieri, come operatore sanitario e quindi come gruppo siamo riusciti tutti insieme ad affrontare, siamo riusciti tutti insieme a uscirne in questo modo questa emergenza ci ha sicuramente valorizzato e ha permesso di valorizzare i singoli ma anche il nostro gruppo possiamo e dobbiamo migliorare nella gestione dell'emergenza ma intanto ce l'abbiamo fatta grazie a tutti quanti, tutti i miei colleghi, tutti i miei colleghi infermieri, medici, operatori sanitario ma anche tutti gli operatori e i colleghi degli altri reparti tutti insieme ce l'abbiamo fatta, tutti insieme siamo stati grandi grazie 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 grazie